Ora ci troviamo dagli Yotobashi Camera a Kyoto Volevamo fare un piccolo video per farvi vedere delle cose assurde La tecnologia che arriverà tra 15 anni in Europa Cominciamo da questo Passano 30 anni che ci hanno il Dociramo Doha Cioè il frigo si apre da due parti Infatti sta pure in sconto ragazzi Beh non è che te lo regalano Quanto costa? Più di 1500 euro però praticamente Guarda che frigo Facciamo rivedere che questa cosa è fantastica De qua E' lo stesso frigo E poi di qua Vabbè Poi c'ha altri cassetti Questo del ghiaccio Questo delle verdure finte dentro Cioè Scritto sample Number one Che figata Number one Bellissimo Il Giappone è number one per la tecnologia Andiamo a vedere qualcos'altro E' un asciugacamice Appese così non si spiega Piazzano e vengono tutte belle asciughe C'è di avere una casa enorme Perché solo questo armadio Quanto costa? Costa intorno ai 1500 euro Boh qualcosa del genere A livello di tutti Guardate questi pietrini Wow Infatti guarda lo spazio che c'è Oddio Che cos'era? Aiuto Hai rotto? Che cos'era? Ah sotto Sotto vuoto C'è il sotto vuoto C'è il sotto vuoto C'è tu chiudi Fa il sotto vuoto Riapri Vabbè Vabbè In qualche maniera evidentemente No no Fa il sotto vuoto Ma proprio vero Non finto Poi sotto A parte è figo che ci mettono tutte le cose dentro Mettono le cose dentro Le uova finte Guardate Apri quello sotto Cassetto Cioè perché almeno dividi Dividi Cassetto Questo per ghiaccio Poi Vedi in Japan Tra l'altro Questo Di lato a sinistra E qua No Triplo strada Questo è per la carne Questo è per le verdure Questo è per l'acqua No Per il pesce Wow La verdura Wow Poi ti dice esattamente Quello che ci devi mettere Vabbè Quanto costa Ampli cose del genere Eh questo costa un botto Costa tipo Più di 4.000 euro Wow Vediamone un altro Guarda quanti Questo Non ho capito Rifallo un po' Rifallo un po' Se uno c'è le mani sporche C'è scritto Se c'è le mani sporche Fai così Questo si apre Oddio Guarda Nelle cose aperte Guarda Stanno pure i succhi Nezi aperti Guarda Bebe chiude Wow Wow C'è un'utilità Incredibile Questa è l'acqua Questa è l'apertura Così che non ci devi avere tanto spazio sopra No? Per il caso sono piccoli A parte vabbè È grandissima Poi c'è questo per prendere tutti i pelucchi I vari fassoletti che Emanuele lascia nei pantaloni Questa servirebbe proprio a nuovi Fantastico Siccome loro vogliono sempre vedere prima di comprare Cioè li vogliono far vedere come funziona Quindi va bene Tu va Ma c'è pure la versione che sta in funzione Così la vedi Se ti piace la compri Questa è della panacea Vabbè c'è tutta la sezione C'è Tavolette Guarda C'è pure il rumino Ti puoi vedere come funziona Lo schizzetto Vabbè Che questo Non sarà mai troppo tardi Poi verranno introdotte anche in Italia Nonostante Abbiamo il bidet Quanto costa Una della toto Per dire Ah neanche tanto Beh questo è il modello più semplice Beh è semplice Fa il bidet E lo scire Che è il lavaggio Quello un po' più forte Poi che fa Ma sai il bidet che c'è Madonna Chi è che scarnutisce Sì pure ovviamente di più Ma ce n'è uno Che addirittura fa il vento Diciamo case Per asciugare Però non l'abbiamo trovato Nell'hotel Fantastici Questo È per levare gli acari Dal letto È della Zagirushi Che fa pure le ricottiere Cioè che fai? Ovviamente tu lo infili dentro Il piumone Tipo qua dentro Ah su E lui tipo fa Un getto Un getto Un getto E muovono tutti gli acari E muore tutti gli acari Questo sterilizza le scarpe Sterilizzatore da scarpe Questo invece è per pulire il letto Cioè dagli acari Un'altra volta Però questo qua Troppo Cioè se non lo trovo Nessi questo Non lo trovo Non lo metto per il letto Certo Sì Lo metto con tutta questa roba Non so che c'è nei casi grandi I giapponesi non si sa E poi puoi provare un aspirapolvere La puoi provare se vuoi No Questo di lava il riso Mi sa Sì Vedi? Che non ti devi bagnare E se ti fai il riso alla giapponesi Che lo devi sciacquare Di solito con le mani Prima metti il riso Lo pesi Lo shagheri Shagheri Io questo lo compro Questo lo compriamo Vai Andato Questi sono tutti i pulisci Riso Ma non è che questo Per pulire il riso integrale Per il riso integrale E farlo di un tacchia bianco Ah, polish Questo è proprio polish Ti vedi Là c'è la integrale Lo pulisce con l'acqua Questo non credo Questo penso Che non ci sia Guardate quanto è risottiere Questa è piccolissima Guardate Per una persona Per un single E se c'ha le case piccole Wow La mantiene tre ore Però mi sa Solo due E qui hanno le altre risottiere Mille Milla tipi Questo è un toaster Per pane Un fornetto Solo per il pane Beh, forse pure per qualcosa Beh, proprio a due cose Propriamente la cosa Che metti un po' d'acqua Qui, come dice Chiudi e accendi Praticamente questo Eh, ora lo fa a vedere Praticamente cuoce col vapore Cuoce un pochino Con un po' di meno di vapore E vedi Mette l'acqua Accende Mette pane Tosta pane E ti minuti E lo cuoce bene Senza farlo bruciare Perché con il ricircolo del vapore Vabbè Non possiamo competere E poi torniamo all'antichità Con i macinini Per il caffè Perché a loro Mi piace proprio Macinare il caffè Per fare il drip Il caffè Mi piace tanto Non aguanto Ma non è Queste pure che stanno Eh Per qua Che carine Questa addirittura Sono ampolle Per fare il caffè C'è roba proprio tecnica Di alto livello Questo che cos'è? Vita Antonio Vita Antonio Sarebbe per fare la Vota Antonio Vota Antonio Guarda il forno per la pizza 400 gradi arriva Che figo Questo ce l'abbiamo pure noi Vota in Canada E veramente funziona bene Ma una pizza proprio napoletana No Questo perché? Per fare lì può zuffare i pesci Vabbè Ah ma guarda questo Manuele Per fare i takoyaki Sai le palline Quelle col polipo dentro Giapponesi Questo è il pitcher apposta Petakoyaki Per versare Cioè i giapponesi hanno una cosa apposta per tutto Tutto Come le barchette petakoyaki di carta Barchette petakoyaki Queste che compri le barchette Vabbè Quelli per girarli Dunque guarda questo Acceso Spento Questo invece è automatico Questo devi girare automaticamente Vabbè insomma Nonostante Nonostante i giapponesi Hanno le case piccole C'hanno un sacco di elettrodomestici E se venite in giappone Se volete fare quattro diciamo E venite a vedere Questi posti Tipo gli otobashi camera Che non c'hanno solo camera C'hanno di tutto Però è veramente sconvolgente Quello che hanno come tecnologia Cioè ho tutti i davanti In Giappone E ricordatevi del E ricordatevi del frigorifero Che si apre a tutte e due le parti Cercatelo quando venite in Giappone Che vita Antonio Questo invece è tutto Che si passerà Che Le zoom Questa Che Que Che Che Grazie a tutti.